questa puntata del mercoledì è dedicata al big robot di alberigo motta come potete vedere anche nelle immagini che farò vedere dopo un fumetto italiano non tanto un capolavoro ma un cult sicuramente un fumetto realizzata una fine degli anni finie anni 70 inizia anni 80 che ha avuto diciamo così poca fortuna in realtà si cercava con questo prodotto di diciamo così contrastare quello che erano lo sbarco delle anime di quegli anni l'edizione bianconi in quel periodo stampava fumetti che si si facevano all'epoca noto lucieri tiramolla un fumetto molto infantile umoristico però gli spettatori appunto a un certo punto iniziavano a spostarsi verso questa televisi verso la televisione verso gli animi giapponesi che proponevano questa novità assoluta di questi robot giganti non ricordiamo il grande mazinga sono gold e eccetera e naturalmente la lettura di dei vari tom e jerry di vari fumetti nostrani diciamo così molto infantile iniziavano a calare quindi l'edizione bianconi ha deciso di prendere uno dei fumettisti all'epoca importanti e soprattutto prolifici che era alberico motta e gli ha chiesto di provare a fare a fare questo esperimento un esperimento un esperimento che non è riuscito perché poi la casa editrice comunque ha chiuso non ci hanno creduto fino in fondo ma poi negli anni appunto questo fumetto è stato considerato un culto proprio perché è stato il precursore dei manga europei che usciranno poi dopo un'altra cosa importante da dire eventualmente è che il big robot forse è più importante per la forma del robot no ci sono gli appassionati che comunque nel corso degli anni hanno acquistato i vari modellini del prodotto senza magari sapere niente del fumetto oggi si è parlato del big robot la prossima parleremo di un altro prodotto che magari anche questo con gli anni diventerà un piccolo cult si è parlato magari di una come posso dire di un seguito ma non se ne è mai fatto niente probabilmente come come big robot rimarrà un piccolo cult ma non non avrà mai un seguito che che questo beta di vanzella genovese se non sbaglio del 2014 e 2015 ok gli autori alla sceneggiatura luca vanzella disegni e copertina luca genovese del primo numero per secondo numero vediamo penso lo stesso battaglia per il futuro luca vanzella disegni luca genovese si quindi sono vanzella e genovesi che hanno realizzato questo questo fumetto anche qua naturalmente i disegni sono di un altro spessore rispetto a quelli del 79 di motta vedete e insomma la prossima puntata parleremo di questo un pochino più profondi maniera un po più profonda e vi faremo vedere vi farò vedere anche le tavole all'interno questo è beta ne parleremo la prossima volta abbiamo big robot la minaccia di orcus questo che vedete qua è praticamente un una raccolta di questo fumetto allora qual è la premessa da fare negli anni diciamo così 70 fini anni 70 80 la casa editrice bianconi edizione bianconi diciamo così pubblicava questi fumetti per ragazzi tom e jerry tiramolla insomma quei quei fumetti che andavano all'epoca quindi molto infantili umoristici se non sbaglio anche il nostro tom e jerry disegnato da noi era praticamente avuto anche un buon successo diciamo così in europa ma proprio in quegli anni sbarcavano in italia più che i manga diciamo così le animazioni giapponesi quindi ma zinga grande ma zinga giga robot goldrack e insomma tutta questa banda qua e cosa è successo poi alla fine si è trovata l'edizione bianconi a un certo punto con la mancanza del lettore classico perché naturalmente i ragazzi si erano spostati dalla lettura all'animazione quindi questi cartoni un po particolari che avevano diciamo così questo nuovo format quindi molto più vivo più più super eroistico no quindi meno umoristico naturalmente i ragazzi si erano spostati verso l'animazione quindi ebbe l'idea diciamo così direttore insomma quelli delle edizioni bianconi di realizzare qualcosa di diverso un qualcosa di diverso rispetto a quello che loro pubblica uno e quindi era nato big robot l'autore alberico motta sono gli si dà il compito a lui perché era diciamo così il fumettista che all'epoca diciamo andava per la maggiore nella casa editrice e quindi niente big robot è nato dalla sua mente diciamo così teniamo presente una cosa all'interno di questo fascicolo che una raccolta del 2012 della star comics all'interno una cosa bella che qua vi racconta lui l'autore appunto del di come sono andati i fatti come è stato creati creato il robot questo è un libri cino che si può trovare ancora ancora in diciamo così su internet in vendita è stato fatto un secondo numero un scontro finale mi sembra sempre della star comics ma è un oggetto misterioso già all'epoca perché io non riuscivo assolutamente a trovare non trovo ancora tutt'oggi però diciamo così questo mi basta e mi avanza cosa voglio dire con questo che sicuramente non lo considero un capolavoro un pezzo storico da tenere in casa quello sì una lettura piacevole ma niente di che perché comunque ai suoi limiti non solo per gli anni ma anche diciamo nella narrazione si vede che non è diciamo così un classico manga non è non era la portata della nera la portata di quella casa editrice però è un buon tentativo diciamo così una sceneggiatura abbastanza lineare un po grottesca in alcuni punti perché naturalmente arrivava l'autore arriva da da fumetti pochino meno impegnati no tom e jerry appunto tiramolla insomma personaggi molto più infantili rispetto a questo e quindi non voglio dirvi che come fanno in molti adesso che questo qua è assolutamente un capolavoro ma sicuramente per gli amanti del del manga ma anche ma anche no del manga del fumetto in generale è un prodotto da tenere in libreria ripeto questo si può trovare ancora facilmente facilmente diciamo così disponibile su internet cosa posso fare vediamo un po di tavole interne no qua viene definita graphic novella appunto per attirare un pochino i lettori il formato è quello pocket e si inizia vedete abbiamo allora la trama qual è praticamente la terra è ormai un pianeta desolato a causa di una guerra nucleare in poche parole sono classica classica trama soprattutto di quegli anni e quindi l'unico diciamo così l'unica fonte per poter contrastare tra l'altro degli alieni che sono arrivati un po casaccio qua sulla terra è il big robot ecco ripeto non è un capolavoro questo fumetto però è diventato una specie di cult perché appunto è e si può definire il primo manga italiano proprio anche perché soprattutto qua alla fine lo dice l'autore che è venuto a mancare tra l'altro non da tantissimi anni ha seguito delle diciamo così quello che poteva essere ma ma istintivamente senza saperne molto quello che veniva fatto anche negli anime quindi venivano ripetute delle scene per risparmiare diciamo sulla sulla carta o comunque nei tempi di consegne insomma comunque ve lo voglio far scoprire la trama è banalissima insomma niente di che ma dov'è che sta secondo me anche questo cult che che anche diciamo così ripreso in questi anni sul robot il big robot proprio sulla forma del robot secondo me alberico motta diciamo così ha inventato un vero personaggio che può in qualche modo essere ripreso volendo non è mai stato fatto un gadget ma so addirittura so che comunque nonostante i pochi numeri usciti all'epoca il robot no questo questo robot che ha avuto successo diciamo così molti l'anno 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 acquistato anche in forma diciamo così di giocattolo negli anni quindi non c'è molto da dire sinceramente ripeto poi alla fine con non si può parlare di capolavoro perché è un po una scopa scopiazzatura di vari temi da star world vedete queste navicelle che ricordano un pochino anche quelle di spazio 1999 anche le forme del robot diciamo così veniva ricalcata più volte in alcune scene diciamo così per per guadagnare tempo ecco qua c'è l'incontro il primo incontro come vedete di antares che il pilota del pilota del big robot in questa terra devastate da nucleare perché ci sono dei topi giganteschi e questi due robot che sono anche i protagonisti della storia diciamo così gli vanno in aiuto non vi racconterò assolutamente diciamo così la trama però ecco giusto alcuni personaggi qua c'è il fuori il cattivo della situazione è comandato da un altro mega cattivo che adesso vi dirò anche come si chiama e se me lo ricordo un attimino allora antares era il pilota del robot poi c'è la base union ok la base union dove ci sono i buoni dove c'è il big robot poi c'è arcus che questo qua anche si vede solo in questa forma qua che praticamente è il supremo il fuhrer che lui che il cattivo tra l'altro fiore appunto si è preso proprio il nome di un cattivo massimo della storia poi abbiamo ecco tra l'altro una cosa terribile soprattutto per l'epoca proprio perché la appunto la bianconi faceva dei fumetti per bambini ecco può essere questa trovata che ogni volta che falliva il fuhrer diciamo arcus gli toglieva un arto oppure comunque gli faceva del diciamo così delle punizioni abbastanza sul corpo abbastanza gravi infatti lui porta già qua una maschera insomma non so poi alla fine della storia cosa cosa rimaneva di questo povero fuhrer alla fine mi faceva anche un po pena poi abbiamo il robot lui che si chiama l'uno che è un pochino quello che aiuta terrestri in questa lotta è verità poi sembianze dell'autore della diciamo così di sapere poi abbiamo il robot trone che lui il secondo aiutante poi abbiamo il comandante orion che è qua il presente un attimino personaggi orion ecco un'altra cosa che non si capisce della storia in quanti sono i sopravvissuti perché non si capisce bene insomma ci sono sempre i soliti protagonisti ogni tanto compare un personaggio personaggio in più poi c'è questa bambina che anche lei è importante aspettati si chiama alia che è un aliena che è rimasta bambina venuta tantissimi anni fa ed è una sorta di perno fondamentale tutta la storia che aiuterà diciamo così i terrestri ogni amante del fumetto diciamo comunque dovrebbe avere questa storia che ha fatto diciamo così un'epoca dimenticata negli anni probabilmente 90 e ripresa soprattutto solamente negli ultimi tempi ecco ci andrebbe un'altra bella ristampa insomma i protagonisti ecco sono solo questi in questo volumetto le stampe iniziali erano a colori ma hanno fatto bene quelli della star comics a pubblicarle in bianco e nero perché diciamo così i colori erano abbastanza ridicoli ne si trovava spesso che ne so tutto il big robot disegna colorato rosa insomma era era poco fattibile diciamo così riproporlo in quel modo lì basta e secondo me non c'è da dire nient'altro recuperatolo la minaccia di che hanno arco subito di eorco subito robotti e Grazie a tutti.